Il mondo del web non va demonizzato perché può aiutare in questo momento anche che abbiamo superato del Covid, ha fatto sì che i ragazzi nelle piazze virtuali potessero condividere dei momenti anche ludici e importanti. Tuttavia i ragazzi non possono navigare da soli in piena autonomia a patto che non dimostrino la consapevolezza di aver acquisito le informazioni necessarie per tutelarsi dai rischi del web che i genitori e gli adulti devono in qualche modo far conoscere. Da molti anni fortunatamente anche grazie a direttive nate dal Ministero dell'Istruzione sono sempre più in aumento la figura di professionisti della salute mentale, psicologi e psicoterapeuti all'interno anche delle scuole. La funzione in certi casi è appunto mediatrice, quindi aiutare in qualche modo un collegamento con le famiglie e cercare di intuire e di carpire i disagi giovanili per poter dare delle informazioni tecniche e pratiche anche da trasferire ai genitori in modo da poter educare e tutelare i propri figli. In qualche modo internet ha stravolto da sempre le vite delle persone ma soprattutto ha stravolto anche la comunicazione il dialogo tra i genitori e i figli. Non c'è più tempo da aspettare, i genitori devono essere informati su quello che sono i cybercrime, quali sono i limiti di età ad esempio per essere iscritti ad un social network e quali sono i comportamenti giusti che un figlio, soprattutto minorenne, deve avere all'interno di un social network o ad esempio all'interno di una piattaforma, di un blog dove c'è una comunicazione, una relazione a livello digitale. L'ignoranza in questo caso non è ammessa, quindi i genitori si devono attivare a conoscere anche quali sono le piazze virtuali più frequentate dai propri figli, proprio per prevenire ciò che in realtà può essere sicuramente in qualche modo evitato se c'è una giusta informazione.